Un caro saluto da Maria Giuliacci, il tempo è previsto per giovedì 16 di settembre. Una debole perturbazione atlantica in arrivo dal sud della Francia raggiunge il nord Italia. Resiste invece l'anticiclone nordafricano, seppure debole sulle regioni centro-mariglionale. Allora i fenomeni rovesci temporali sulle Alpi e sul nord Italia, rovesci temporali che saranno di forte intensità sui rilievi del Levante Ligore e dell'Alta Toscana. Temperature massime intorno a 30-32 gradi su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania, Calabria e isole maggiori. Al nord invece temperature in calo che si porteranno dagli attuali 28-32 gradi a valore di 24-26 gradi, 27-28 solo sulle miglia Romagna. Punti di 34 gradi al sud sulla Sardegna. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliacci.